Cari lettori di PianetaSmart.it e amici delle recensioni World86, a distanza di tanto tempo della video recensione, è arrivato anche lui, Huawei Mate 8, quindi un phablet, che oggigiorno si trova un pezzo molto molto interessante sul mercato. Grazie Nicola di Mustman.net per averci inviato anche questo dispositivo per farvi vedere cosa vi potrà dare lui attualmente nel vostro uso quotidiano. Quindi per la rubrica dei cellulari post recensione, quindi 6, 7, 8, 9, un anno dopo, lui è Mate 8, quindi andiamo a vedere tutti i suoi pregi, tutti i suoi difetti. Questo dopo la nostra sigla. Allora cari ragazzi, per la rubrica, insomma, avete visto lo smartphone cos'è dopo, verso un phablet lui, dopo un po' di tempo? Allora intanto vi devo dire che, niente, Mate 8 secondo me è sempre un bel prodotto. Questo anche dopo tanti mesi dalla video recensione. Le cose che su questo dispositivo non mi sono piaciute, ma non è una colpa forse sua, è perché col passare del tempo sono cambiate alcune cose proprio al lato concorrenziale. Allora adesso sto utilizzando molto spesso dispositivi con due casse stereo. Immaginatevi, ecco l'E3 Pro, iPhone 7, poi abbiamo trovato altri dispositivi con la doppia soluzione, ovvero una cassa qua nella parte inferiore ed una cassa qua nella parte frontale dove c'è il nostro altoparlante di sistema. Insomma, questo effetto, questo effetto stereo della musica fa sì che alle volte ho trovato difficoltà, per esempio, ad ascoltare un audio messaggio senza mettere all'orecchio il mio Mate 8, perché ormai il mio orecchio è abituato ad un audio leggermente più alto, ma soprattutto non a un audio mono, ma a un audio stereo. L'audio di questo dispositivo è comunque buono, è comunque nella media, però ecco, quando andiamo ad ascoltare una canzone in Spotify, quando andiamo a far partire un video, quando proprio vogliamo sentire un nostro amico che ci sta parlando, ecco, il non avere le due casse stereo, secondo me, è una mancanza su questo dispositivo. Ahimè, nel nuovo Mate 9, quando ci arriverà, magari vedremo se le cose sono migliorate. Io però adesso vi faccio sentire comunque sia l'audio di questo dispositivo. Avete sentito, l'audio è comunque buono, esce qua nella parte destra del dispositivo, nella parte sinistra troviamo il primo microfono. Sentite quando si va ad ovattare, quando proprio appoggiamo la nostra mano, e poi abbiamo l'USB di tipo C, non abbiamo... no, scusate, abbiamo l'USB di tipo standard, non abbiamo una tipo C. Allora, il display è un 6 pollici, ma devo dire è gradevolissimo. Questo perché merito del sensore biometrico posto nella parte inferiore. E voi mi direte, ma cosa c'entra il sensore biometrico per sbloccare il dispositivo con l'usabilità di un 6 pollici? Allora, vedete ragazzi, io faccio questo movimento, ovvero tramite proprio lo sfiorare il mio sensore qua nella parte rete del telefono e buttandolo o su o giù posso, vedete, interagire con la mia tendina delle notifiche. E questo durante l'uso quotidiano è una cosa, secondo me, interessantissima e utilissima, perché alle volte, vedete come, ad esempio, il pollice faccia fatica ad arrivare qua sopra, ma non ce n'è bisogno, basta interagire col sensore dietro e si può tranquillamente andare a leggere le nostre notifiche. Questa, secondo me, è una genialata di chi interagisce con questo sensore posto nella parte rete del telefono. Sapete bene che io amo più quelli nella parte frontale, però in questo caso mi è tornato assolutamente utile. Come di consueto andiamo anche a provare la ricezione, la parte telefonica di questo smartphone. Allora, lui vi dico subito che prende dove altri cadono, ma questo è targato Huawei, quindi sappiamo bene che loro lavorano benissimo sulle antenne, l'interlocutore ci sente bene e soprattutto anche l'audio in capsula è, secondo me, quasi da fisso, proprio da prendere in considerazione la ricezione Huawei e poi ne arriverà un altro che forse gli darà del filo da torcere, ma non vi voglio spoilerare nulla. Il suo credito di sito è 12,49 euro. Per maggiori dettagli sul suo... Si è sentito buono anche il Viva Voce. Questa è una versione dual SIM, ovviamente una SIM va in 4G, l'altra non va in connettività. Non è chiaramente la versione cinese, ma questo è un prodotto targato 1 euro, quindi un prodotto italiano. Altra particolarità che l'ho riscoperta nel tempo, proprio mesi fa mi sembrava un telefono che era velocissimo, fluidissimo, i 3 GB di RAM potevano bastare, adesso con il tempo, non dico che 3 GB di RAM non bastano su un dispositivo, anzi, secondo me sono più che sufficienti. Però ecco, vi devo dire che durante proprio l'utilizzo quotidiano, quando avevo un multitasking aggressivo, quando dovevo passare da un'app all'altra, un giga in più forse era, secondo me, interessante su questo dispositivo. Oppure, secondo me, un'altra particolarità è che lui nel tempo, ragazzi, da 8-9 mesi a questa parte, non si è mai aggiornato, cioè c'è sempre la solita versione di Android, seppur positiva, perché Android è Marshmallow 6.0 con le Motion UI, però vedete come Huawei è una, secondo me, un'azienda che non va a aggiornare nel tempo il proprio dispositivo. E magari quel laggettino in più, che noto adesso e 8 mesi fa non lo notavo, perché la concorrenza ovviamente è cresciuta, con un piccolo aggiornamento software si poteva, secondo me, lavorare meglio su questo dispositivo, per renderlo ancora ad oggi un phablet competitivo, anche se, secondo me, visto anche il prezzo, lo è a tuttora. Andando a parlare di fotocamera, l'ho trovata nella media, non mi ha entusiasmato più di tanto, ormai siamo abituati a provare, ultimamente ho provato quella di iPhone 7, quella di S7 Edge, sono venute fuori tante fotocamere, secondo me, di una qualità incredibile, anche lato videocamera, lui, secondo me, rimane anche un pelino sotto i nuovi P9 Plus, P9 Honor 8, secondo me, ecco, il sensore, nove mesi fa poteva essere un sensore nella norma, egregio, che funzionava bene, adesso la, proprio, si è alzata ad un picco elevatissimo, ma anche in casa propria, vedete, un P9 Plus fa foto, direi, ottimali, e lui, ho visto proprio nelle macro, nell'andare a mettere a fuoco, proprio nel scattare anche a bassa luce, quindi quando, ormai, l'imbrunire arriva molto presto, dalle quattro e mezzo in poi, fa un pelino di fatica nel metterci a fuoco le cose, e c'è tanto rumore di fondo, questo anche perché, vi rifetto, via software, non si è assolutamente aggiornato. Un'altra cosa che mi piace tanto di questo dispositivo è la possibilità di avere questi 6 pollici, il diagonale display con, sì, le bande nere su questa versione bianca, che nella versione nera, che avevo 7-8 mesi fa, non le notavo, perché era tutto nascosto, invece adesso si vedano, assolutamente sono a meno un millimetro, un millimetro e mezzo, ma ormai lo sappiamo che in Cina amano queste bande nere sul display, a me non piacciono, però ovviamente sono gusti personali, però ecco, vi devo dire che il display, la multimedialità, la batteria di questo smartphone, sono i suoi punti di forza, quindi se cercate un phablet, non volete spendere tanto, perché Mate 8, sull'estino usato, si trova 21-320, 330, 280, dipende un po' le condizioni anche del dispositivo, quindi se non volete spendere tanto, se la penna non vi interessa, e se chiaramente ormai la concorrenza sul lato phablet non c'è, perché Note 7 non è uscito, non è mai arrivato, Note 6 non è mai esistito, Note 5 si trova solo in versione estera, quindi in Italia mai venduto in negozi, siamo fermi a Note 4 e secondo me lui è superiore a Note 4 per tutta l'integrazione che Huawei è riuscita a dare alla sua Emotion UI, arrivata alla versione 4.0, poi arriverà alla 5, insomma arriverà anche, speriamo, Android Nougat, quindi insomma secondo me ottimo questo dispositivo davvero. Io ringrazio un'altra volta Nicola di Masterman.net per averci fatto provare a distanza di tempo anche Huawei Mate 8, io vi saluto e ci sentiamo nei prossimi video.